Mister, ormai sono diversi giorni che sei qui nell'ambiente della vastese calcio 1902. Qual è stata la prima cosa, il primo concetto che tu hai voluto far arrivare fortemente alla squadra? Beh, il concetto è sempre quello un po' del calcio moderno. Bisogna un po' giocare le partite a ritmo, cercare di giocare di squadra e dare continuità anche nella prestazione per arrivare alla vittoria. Questo è sempre avere mentalità e voglia di arrivare alla vittoria. La Serie D forse ha un po' un handicap, che è quella che se non rientri, comunque non sei la prima in classifica, può fare perdere un po' di motivazione ad alcune squadre. Questo invece non deve succedere in casa vastese? No, certamente no, non deve succedere anche perché noi abbiamo dei giovani molto interessanti e quindi devono crescere soprattutto anche per la società e anche per il futuro di questi ragazzi di poter fare anche carriera. In questi giorni sei stato affiancato anche dal nuovo staff, come avete trovato anche sotto la forma fisica e atletica la squadra? Beh, abbastanza bene, comunque erano avanti di campionato, di prestazioni e quindi bene. Dopo ognuno ha le proprie metodiche, noi adesso lavoreremo su alcuni concetti e speriamo di fare bene.